Ciao Maria, sono Endina, sono venuto qua a trovare Abetto Livre, ti devo dire una cosa, va bene? Ciao Maria, ti chiedo scusa per il mancato appuntamento a quale non ho potuto fare fronte, ti chiedo immensamente scusa al rinnovo di invio a cena presso il commensale a Sciacca, ti mando più affettuosi saluti con affetto a Ete, aspetto la tua risposta. Ciao, bacio. Questa lettera l'ho scritta io per dirti che veramente ho sbagliato con te due volte, ti chiedo scusa e speriamo di andare avanti se la cosa va bene. Poi il primo giorno che ti ho visto mi hai colpito al cuore, sei una bella ragazza, hai begli occhi, andiamo avanti e vediamo questa storia fra noi due e che devo dire? Ci frequentiamo se mi vuoi frequentare, io ho pensato di invitarti a quella cosa che ho scritto io a cena, aspetto la tua risposta, tutto organizzato, non ce n'è problema di parlamento, va bene? Ti piace come balli, come ti presenti, quella volta le temi sei una bella ragazza, mi hai capito tanto, è troppo bella sera. Ha molto tempo che pensate perché ho visto i tuoi provini e sono andato qua a strana musica per vedere se succede qualcosa. L'unica cosa che ti dico, ti dico, dammi questa possibilità. Una cosa è sicura, voglio creare un futuro con te, se ti lo mandi bene, non voglio sposarmi più là, avere famiglia, con me, figura andrini faccia fare, stai tranquillo, ti puoi contare. Tu lavoro, ho la macchina, il problema non c'è no, quando qualche sera usciamo assieme, qualche sabato, mi chiami, io ti vengo a prendere, ce n'è problema. Aspetta la tua risposta, ciao, un bacio, ti aspetto, ciao, ciao, ciao.